La Basilicata come trampolino di lancio per fare impresa nel mondo. È stato il tema ambizioso del forum organizzato a Vigiano, partendo dai 35 anni di esperienza della LIBO, l'azienda leader nelle forniture industriali ed elettrostrumentali, che collabora con le maggiori realtà del settore oil and gas, con sedi in Italia e all'estero, e che ha voluto promuovere un confronto tra rappresentanti istituzionali, regionali e nazionali, università e imprese per declinare la sua esperienza in una riflessione dedicata alla crescita dell'intero territorio. I numeri della nostra azienda sono sette sedi in tutta Italia, abbiamo tre sedi all'estero, abbiamo 60 dipendenti in Italia e raggiungiamo i 100 dipendenti con quelli esteri. In un'iniziativa organizzata in collaborazione con The European House Ambrosetti. Abbiamo visto che alcune imprese già hanno avviato un processo di internazionalizzazione delle aziende andando in Africa, andando in America, andando nel Medio Oriente. Penso che sia importante, ma non soltanto attraverso l'oil and gas, ma anche attraverso altre attività, poter continuare, perché questo davvero può essere una pagina importante che può dare molte soddisfazioni in termini di crescita della nostra area, della Basilicata del Sud, sia in termini di sviluppo, di occupazione e in termini di benessere. Lei nel suo intervento ha lanciato un duplice appello, da un lato ai giovani a non demordere, e quindi a non dire di non voler problemi a 25 anni a livello imprenditoriale. Dall'altro però al mondo istituzionale. Cosa si chiede? Io chiedo ai giovani di avere più coraggio, di avere più personalità, di scommettere di più sul nostro territorio, di fare più autoimpresa, di lamentarsi di meno. Io capisco le difficoltà, sono stato anche io giovane, anche io ho aperto una partita via, anche io ho avuto le difficoltà, però dobbiamo, come dire, ritornare a quella passione, dobbiamo ritornare a quella capacità di rischio, a quella capacità nella propria terra di raggiungere dei risultati importanti, anche nelle mille difficoltà. Invece purtroppo denoto spesso un arrendersi ancora prima di partire o andare fuori, prima ancora di aver provato nella nostra terra che cosa si può fare. E quindi oggi ho voluto lanciare anche le istituzioni, ma anche, come dire, alle tante personalità di caratura nazionale e internazionale, che sono qui a Vigiano, e per noi è un grande onore, di lanciare l'allarme a loro, che sono, come dire, portatori di una comunicazione, certo, più importante della mia, su questo tema. Come si può fare in presa, come si può creare questo trampolino di lancio, ma come si può partire soprattutto dalla risorsa, che è quella più importante, la risorsa umana e quindi i nostri giovani. Un'ultima cosa, Vigiano è un po' il simbolo in Basilicata delle occasioni, no? Nel senso, è il comune che anche grazie al petrolio ha dei fondi a disposizione. Cambia questo a livello numerico? Nel senso, qual è la situazione a Vigiano, in generale in Val d'Agri, per magari il finanziamento di nuove start-up a livello imprenditoriale? C'è questa realtà? Ma ci sono delle possibilità, delle possibilità importanti per i nostri giovani. Ecco, anche qui invito, come dire, i giovani a partecipare di più, e non soltanto loro, e a darsi da fare in un processo di opportunità che esiste, sia a livello regionale, sia a livello del nostro piano operativo Val d'Agri. Il problema, però, è saperle affrontare nel giusto modo e metterle a sistema non in un anno, due anni, ma attraverso una visione di crescita che deve essere molto più ampia. E cioè, oggi, con le opportunità dell'Oil & Gas, dobbiamo essere capaci di poter sviluppare e creare quel processo di produzione della ricchezza che sia alternativo al mondo del petrolio. In Basilicata ci sono tante eccellenze, la LIBO è sicuramente una di quelle, nonostante tutto, nonostante un deficit infrastrutturale insopportabile, ma lo sapevamo, voglio dire, certamente questa ricerca lo ha, come dire, cristallizzato, in qualche modo, nelle coscienze e nella consapevolezza di chi queste cose non le sapeva. Insomma, noi sappiamo perfettamente come sia difficile fare impresa in Basilicata. L'inversione di tendenza è necessaria, si comincia a intravedere, ma è evidente che c'è moltissimo da fare. Le imprese in Basilicata hanno delle diseconomie esterne, contro le quali combattono quotidianamente, che le tengono lontane dai mercati di sbocco e dai mercati di fornitura, e per cui diventa quasi una precondizione per poter fare impresa in maniera di successo, in maniera diffusa. Le eccezioni, come la Libo e come tante altre imprese del nostro territorio, che riescono comunque ad avere successo, sono davvero da menzionare, perché le condizioni appunto sono di maggiore difficoltà rispetto alle regioni con termine, non solo rispetto al nord, questo lo sappiamo, lo sanno tutti, ma anche rispetto a regioni come la Puglia, la Campania, che hanno ovviamente infrastrutture molto più avanzate, molto più adatte a poter fare attività imprenditoriali. In questo contesto la Val d'Agri, Vigiano in particolare, oggi siamo a Vigiano, ma la Val d'Agri come si colloca? La Val d'Agri è un'eccellenza, è un'eccellenza nata secondo un modello esogeno, cioè di una grande impresa, l'ENI, che ha investito in questo territorio, è piccole, piccolissime imprese meccaniche, elettriche e di servizi che hanno saputo però innovare, hanno raccolto la sfida e hanno vinto la sfida, tant'è che molte di queste imprese, la Libo è una di quelle, è riuscita ad andare oltre il mercato regionale e il mercato addirittura nazionale. Il dopo ENI, il dopo petrolio, è pensabile? Non solo è pensabile, bisogna contribuire a costruirlo con le energie alternative, con l'innovazione tecnologica legata ai nuovi vettori, penso all'idrogeno, ma è non solo all'idrogeno, e io credo che però la sfida che le imprese di questo territorio e anche dell'intera Basilicata hanno saputo vincere, nonostante le difficoltà di cui abbiamo parlato prima, sia un prodromo e un buon viatico per essere ottimisti sul futuro. Ma lo Stato deve fare lo Stato, la Regione deve fare la Regione, le imprese devono innovare, investire, accettare le sfide, ma in un ecosistema che sia favorevole alle imprese. L'Università della Basilicata ha iniziato, anche se da poco, un percorso proprio in tal senso, cioè la presenza ad esempio di un incubatore con un progetto che viene portato avanti da sviluppo Basilicata nel campus di Potenza è proprio nella direzione di creare un ambiente di contaminazione tra l'Università e le imprese, farle incontrare. Diciamo che c'è bisogno del dialogo, come più volte è stato detto, dove l'unica responsabilità non è evidentemente dell'Università, se si vuole dialogare bisogna essere almeno in due, quindi evidentemente c'è da creare sempre di più questo tipo di confronto. Non c'è da recriminare, c'è veramente da guardare avanti e provare a costruire un'opportunità che è un'opportunità di ricaduta sul territorio e qua oggi siamo per parlare della resilienza di territorio attraverso i giovani per i nostri giovani. Assessore, diciamo che i dati presentati nel focus precedente sono un po' impietosi rispetto alla crescita lenta della Basilicata in quasi tutti i settori. Che cosa si può fare? Qual è la situazione attuale? Soprattutto l'interlocuzione, in questo caso regione Basilicata, aziende, privati? Come sta avvenendo? Sì, innanzitutto devo dire che i dati vedono sempre la Basilicata fare il nord del sud Italia, nel senso che noi ovviamente siamo il cuore del sud Italia, ma abbiamo una spinta che molto spesso ci avvicina ai dati del nord Italia, sullo sviluppo, sulla disoccupazione, siamo tra le regioni meridionali ovviamente che registrano i dati migliori. Abbiamo però un ritardo strutturale e infrastrutturale storico che deve essere assolutamente sanato, per il quale ovviamente si sono stati fatti investimenti importanti dal punto di vista ferroviario, dal punto di vista degli interventi sulle strade che saranno migliorate, ma bisogna fare molto di più. Per fortuna le tecnologie vengono in soccorso in molti casi alla Basilicata. Io ho fatto l'esempio di un'azienda che produce occhiali artigianali che le esporta in due giorni sui mercati americani. Così succede anche con la frutta e con altri settori. Abbiamo, e non bisogna sottovalutarlo, delle aziende di portata nazionale e internazionale, la Ferrero, la Barilla, la Stellantis, la Total, l'Eni, e ne dico solo i più importanti, ma ce ne sono tantissimi. Dobbiamo investire il mare di risorse che sta per arrivare in Basilicata nei prossimi anni per far crescere gli ecosistemi industriali e dello sviluppo economico e io sono sicuro che ci riusciremo. Il punto principale oggi è lavorare per esaltare la resilienza perché abbiamo indubbiamente molti giovani che hanno deciso o vorrebbero rimanere su questo territorio per puntare a sviluppare le particolarità di questo meraviglioso territorio. Parliamo sia dei prodotti agroalimentari, se parliamo dei prodotti industriali, parliamo delle innovazioni, parliamo del settore tecnologico, il settore estrattivo, la salvaguardia dell'ambiente, le strutture, ma soprattutto le infrastrutture che sono la chiara laguna di questa nostra regione lucana. È chiaro che noi come istituzione dobbiamo impegnarci per dare delle risposte. forum come questi sono importanti per noi perché veniamo ad attingere a delle richieste e a delle proposte e a vedere da vicino le esigenze del territorio e che poi dovrà essere per noi un momento di laboratorio, di discussione e di trasformazione per poter scaricare a terra il pragmatismo che necessita come risposta ai giovani in particolare. L'Italia ha scelto con il governo di Draghi di dare uno sviluppo e una grande spinta innovativa sulla imprenditoria femminile e più in generale sull'occupazione delle donne. Tanto che l'intero piano del PNRR ha assunto questa come sfida strategica e proprio Ambrosetti ha fatto uno studio che ha dimostrato che un quarto dell'aumento del PIL che grazie al PNRR il nostro paese avrà in via strutturale deriverà proprio dall'aumento del lavoro femminile. È evidente che in particolare in una regione come la Basilicata investire nel lavoro delle donne è una leva di sviluppo. Uno perché le donne oggi rappresentano un patrimonio di competenze e di talenti che per troppo tempo è rimasto bloccato di fatto anche con mancanza del conseguente vantaggio economico regionale ma anche sociale perché i dati dimostrano che più lavoro femminile si ha più ruolo femminile, protagonismo femminile abbiamo più aumentano per esempio i tassi di fecondità e quindi si contrasta quel fenomeno drammatico della denatalità che in queste regioni può invece avere un'incidenza di medio, di lungo periodo davvero drammatica. Per fare questo noi abbiamo messo in campo una strategia nazionale per la parità di genere, abbiamo introdotto strumenti concreti la certificazione per la parità di genere che dà vantaggi fiscali e nell'ambito del codice degli appalti purtroppo il governo su questo ha fatto e sta facendo un passo indietro quindi noi auspichiamo invece che si prosegue in continuità con la strategia strutturale che abbiamo introdotto attraverso il Family Act che ha per la prima volta attuato una riforma di investimento sulle famiglie e di protagonismo delle donne abbiamo dato uno strumento concreto allo sviluppo del Paese.